Lei già lo sa, però sarò per sempre alla sua spalla e qualsiasi problema sarà sempre condiviso in due. Al giorno di oggi credo mi abbia portato alla grande complicità con Andrea. Nonostante poi le varie vicissitudini della vita in questi dieci anni, quindi comunque anche situazioni non troppo belle, non troppo facili, che comunque ci hanno portato a riavvicinarci nell'unico modo che conoscevamo sono state insieme. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!